Dries Nertens batte il Portogallo e si giocherà ai quarti di finale con l'Italia e intanto riceve gli auguri dagli spati della moglie, buono anniversario di matrimonio. Piccolo, è il cartellone che mostra Kat Kerkoffs, innamorata e orgogliosa. Lui su Facebook, che donna. La crisi del 2017 tra i due è ormai alle spalle. Buon anniversario di matrimonio, piccolo, è il cartellone che mostra una moglie. Innamorata e orgogliosa, che sugli spalti indossa la maglia numero, 14, del Belgio. Non è un caso, perché quello è il numero di Dries Nertens e lei è Kat Kerkoffs. Ieri hanno festeggiato sei anni di matrimonio e non c'era modo migliore per farlo. Con una vittoria che proietta il Belgio, i Diavoli Rossi, ai quarti di finale da giocare venerdì 2 luglio contro l'Italia. Alla fine del match, che ha visto Nertens protagonista anche con Lukaku di un piccolo alterco sul campo. Dries Nertens ha pubblicato la foto di sua moglie Kat Kerkoffs, this girl, ha scritto. Questa donna, che donna. Un amore che, non senza scossoni, adesso procede finalmente a gonfie vele. È stato un amore turbolento quello tra Dries Nertens e Kat Kerkoffs. Un amore che la città di Napoli ha accolto. Ha amplificato e, per certi versi, ha anche rischiato di allontanare. Nel 2017. Infatti, erano numerose le indiscrezioni che legavano il calciatore del Napoli a una bellezza locale. In un periodo in cui anche Kat Kerkoffs preferiva frequentare più la sua Olanda che l'Italia. Una napoletana aveva cercato di stregare Mertens, proprio come accadde per Edinson Cavani. Però poi la crisi sono riusciti a portarsela alle spalle pochi mesi dopo, come ammesso dalla stessa Kat Kerkoffs. Nel 2019, invece, i due sono stati visti litigare in spiaggia ma come si dice l'amore non è bello se non è litigarello.